video sfogcast oggi video sfogcast oggi facciamo il contropelo a tutte va bene voi devastate di like mi raccomando e condividete questo video con tutti i tifosi delle squadre menzionate che conoscete che saranno tante che voglio il più ampio dibattito in sezione commenti sfogatevi ok mandatevi anche a fanculo tra di voi devasto poi stasera ci occuperemo di fiorentina anche di calcio a mercato fiorentina per nobilitare insomma per nobilitare anche questo post partita contro una squadra che ha come stemma un uomo la sagoma di un uomo voi ditemi anche i nomi che state leggendo che reputate credibili per gennaio per la fiorentina che stasera li andiamo tutti a commentare e a sentenziare e speriamo anche di perdere qualche partita no perché mi sono anche rotto i coglioni di questo clima di felicità che c'è la felicità è come la morte è eminente a sé è eminente non ce ne facciamo niente della felicità va bene un sentimento infertile della felicità quindi speriamo di superarla con qualche sconfitta anche in serie va bene posso bene posso bene poi ho visto la champions in queste in questi giorni due coglioni va detto due partite scontate sempre fine a se stesse in questo turno qua speriamo nel prossimo però voglio iniziare dall'extracalcio perché voglio dare due puntate di extracalcio allora avrete sentito che in veneto adesso c'è il problema che zaia probabilmente non potrà candidarsi per cos'è il 2026 2027 allora c'è il problema su chi presentare su chi avere come candidato unitario di destra perché fd vuole passare all'incasso prendendosi la regione la lega vorrebbe ricandire allora io dico ma perché non si ricorre al calciomercato va bene e non si piazza la roboanza jair bolsonaro no che è veneto che è originario di anguillara ok di anguillara veneta fai una lista unita con tutti visto che si parla di candidato di destra lista unita di destra con bolsonaro convinto a diventare presidente della sua regione e tutti concordino e tutti con una roboanza no lui che è stato presidente del brasile torna fa il presidente del veneto no una roboanza di calciomercato unitaria che unisce tutti e proprio e giochi colpo si sta lì a rompersi i coglioni no zaia non si sa candidotizio e ma la lega vuole il suo fratelli italia quell'altro jair bolsonaro tutti uniti va bene e bolsonaro non va bene questa puntatina io credo sia una puntatina della madonna quella di jair bolsonaro presidente del veneto anche in epoca di trumpismo ok può essere una bella idea può essere una bella idea poi un'altra puntatina che mi va di dare la situazione genoa che è devastante che ha rotto i coglioni allora io poi gilardino va via via i raldi e se gianluca vacchi già basta basta zangrillo basta con le dichiarazioni già il voglio gianluca vacchi presidente del genoa enjoy hashtag enjoy con gianluca vacchi ok fai una bella call al telefono ti metti d'accordo in video call su come gestire il genoa fai anche una bella due diligence al volo al telefono dieci minuti di due diligence al telefono lui che arriva in yacht davanti al porto di genova scende con una moto d'acqua a petto nudo capito a gennaio fa le penne in acqua con la moto arriva dice si abbassa gli occhiali dice enjoy genoa arriva viene ecco poi si mette un bello smoking dei suoi capito e fa quel quel balletto anche del genere che ha pubblicato capito in cui si mette e firma e firma presidente del genoa gianluca vacchi non è meglio gianluca vacchi presidente io lo vedrei benissimo gianluca vacchi presidente del genoa è il genoa come bolsonaro è il veneto bene questo volevo dirvi passiamo al calcio allora juventus posso dire che adesso tutti dicono ciò che io feci notare con quel fotomontaggio qualche mese fa e mi arrivarono no ma cosa dici ma come fai a dire che la juve come quella di allegri hai commesso peccato vergogna mi mancava solo donabondio donabondio nei commenti che mi diceva pentiti e dogliti e voi non mi credete ma io sulla juve le cose le vedo prima anche perché la squadra che tifo quindi ci sarà un motivo io di juve non sbaglio mai e le cose ve le dico prima allora sulla juve vi dico che questa squadra oggi l'ha detto anche di canio tra l'altro ma la juve ha un problema fondamentale cioè che non ha fatto un salto di qualità fin qui ok non ha sviluppato un'identità che le permettesse di fare a livello di forza e di gioco un salto di qualità prendersi credibile ad altissimo livello perché la juve che vedi oggi tra una cosa e dell'altra non è una squadra che ti ispira di essere competitiva per la lotta scudetto e per vincere lo scudetto questo per il 70 per cento possiamo dire per le assenze importanti che ci sono che c'erano anche ieri per un 30 per cento anche per le danneggiate per le danneggiate le fenomenate di tiago motta che ha fatto quando potendo avere diversi elementi a disposizione si è reinventato di cambiare una formazione una formazione a partita capito con i suoi esperimenti giovani mai data una fissità specialmente ad un reparto nevralgico come quello del centrocampo non si è creato per un motivo per l'altro questo nocciolo di identità anale non si è creata un identità un nocciolo di identità anale anche simpaticamente anale che permettesse di fare un salto di qualità io vedo che viene criticato il mercato io onestamente non sarei di questo avviso o meglio si possono criticare alcune cose tipo cosa i 25 milioni spesi per di gregorio ve lo dissi a maggio che non avrei mai speso 25 milioni su un portiere avendo perini in casa e con tutte le esigenze che c'erano in altri reparti ma mi pare che sia stata anche una richiesta di motta quella del portiere se non se non erro comunque tenere nico gonzalez 38 milioni per carità abbiamo fatto veramente un tiro ai fratelli juventini che io ne ho vergogna ne ho vergogna per aver venduto nico non se lo meritavano no diciamocelo che non se lo meritavano però anche lì al netto della cifra folle e della follia di non vederlo in campo ancora io non so che cazzo sia successo però anche nico per certi versi non è che l'hai preso per fare la stella anche lì vi rimando i video che facciamo nico era quasi un giocatore troppo costoso costosissimo ma era un giocatore più di fatica che tu mettevi per assumersi l'onere l'onere nero tra virgolette l'onere di fatica l'onere l'onere tattico che ti permetteva di avere il dis dall'altra parte che poteva stare alto e fosforire era è quella l'utilità soprattutto di nico gonzalez infatti l'unica partita che ha giocato nico con il dis hanno fatto molto bene entrambi contro il psv soprattutto il diz ok ma poi sul resto io il calcio mercato non lo criticherei per la gente che è arrivata che secondo me è tutta valida semmai c'è da dire che è stato fatto troppo poco perché la vera questione in casa juve è che appena mancano i nuovi titolarissimi la coperta è corta debole ed è quella dell'anno scorso che è quella di una squadra scarsa quella la juve ereditata dell'anno scorso e che ancora vedi a brani quest'anno perché gli altri sono infortunati o quando tiago moto fa le sue danneggiate è una squadra scarsa a cui nemmeno un calcio mercato di 200 milioni serve per dire ho un gruppo che veramente mi fa tremare i coglioni certo è meglio dell'anno scorso ma vedete che basta che manchi qualcuno manca un titolare ti viene una folata di infortuni e sei già con le palle per aria ok poi permettetemi una prece e no diciamolo no perché sembra che è un argomento tabù se douglas luiz ok che per me non è un giocatore scarso un giocatore forte anche emmeri ieri ha detto io me lo riprenderei al volo allora vi faccio la seguente domanda se la gestione di douglas luiz non l'avesse fatta tiago motta ma l'avesse fatta allegri apriti cielo apriti no perché qui sembra normale che un giocatore come lui con la sua onerosità col suo peso sia finito ai margini e sembra quasi che si commenti questa cosa con fatalismo e ma sarà lui scarso e ma sarà veramente un bidone e ma succede ma cosa vuoi farci immagino per fare confronti ma per amore dell'analisi immaginatevi se douglas luiz lo avessero preso ad allegri e stesse facendo la stagione che sta facendo sotto allegri io dubito che ci si sarebbe che ci sarebbe questo clima di silenzio di non indetto o di imputazioni al giocatore si direbbe nel migliore dei casi a ecco vedi allegri il solito che ti costringe a prendere le figurine poi manco giocano fanno cagare oppure la colpa dicendo no ma dagra suizia è fortissimo è allegri che non lo fa rendere non lo sa gestire cosa anche secondo me comprensibile nell'oggettività dei fatti perché non è scarso non è un pacco quando in realtà a me pare che tiago motta abbia fondato questo soprattutto reparto nevralgico del campo sui vari locatelli e mckenny più che su turam che è stato scoperto con ritardo adesso e su douglas luiz che invece doveva essere douglas luiz cove miners e turam dovevano essere il triangolo di ripartenza e di rinascenza della juventus invece se ancora dietro una squadra che complici gli infortuni complici l'incapacità l'impossibilità di fare questo salto in avanti si è riaccartocciata su se stessa e adesso è praticamente una juventus in salsa allegriana che colleziona 0 a 0 il cui ritratto è locatelli ok non bisognava fare questo allora qual è la soluzione secondo me io a gennaio cercherei intanto di recuperare da qui a gennaio il numero più alto di infortunati possibili perché quando la juve gioca con i soliti è una squadra mediocre che non sviluppa che non ha identità e che non può svilupparla a gennaio cercherei di darci dentro nel possibile ancora con gli acquisti non cederei come sento dire fagioli di cui stasera ne parliamo perché se ne parla per la fiorentina no io fagioli loterei e terei anche Douglas Lewis perché è gente che ti può e ti deve assicurare un salto di qualità anche fagioli ha fatto una partita straordinaria con l'ipsi ha finito in panchina non si sa perché e a gennaio cercherei di portare a casa un difensore centrale nel possibile cercherei di portare a casa screener perché è uno che anche mentalmente ti può dare quel nocciolo di gasazione di fomento poi ci penserai a recuperarlo fisicamente credo che ci possono essere i margini ma visto che anche economicamente può essere un affare oggi visto che hai già speso tanto io uno screener cercherei di portarlo a casa e se ci fossero i margini cercherei di portare a casa anche Zirk Zee con un prestito con diritto di riscatto visto che hai margini anche il Manchester non sta rendendo e tutto se ci fosse l'opportunità cercherei di portarlo a casa che ti può fare sia il vice Vlaovic ma anche essere uno che in certe partite in certe situazioni in certi contesti puoi provare anche come trequartista da mettere in campo per cercare di oliare la partita per cercare di oliare i meccanismi di dare una spinta un po' più offensiva io screener e Zirk Zee li porterei a casa ok perché con buona pace di chi pensava che bastasse cambiare allenatore e vedere contro Verona e Como assi la nuova Juve così il cazzo sembra la Juve dell'anno scorso con 200 milioni di mercato in più con mezza squadra infortunata che deve ancora sviluppare un'identità ecco col caso col col tarlo Douglas Ruiz che secondo me è una vergogna e il ritratto di quello che non dovevi fare perché era il forse il primo giocatore che tu dovevi mettere al centro del progetto per creare una nuova Juve più propositiva più forte più forte con più numeri con più gol con più assist con più qualità invece sei ancora 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 fermo ok ancora fermo al ai problemi che avevi passiamo all'Inter perché oggi Carragher ha detto l'Inter può vincere la Champions sì io sono d'accordo l'Inter può giocarsela però voglio lanciare una nocchetta di complottismo è una nocchetta di complottismo perché l'Inter sì può vincere la Champions può provare ad arrivare in finale a dire le sue carte con la nuova formula ma senza sacrificare il campionato cioè per adesso è una cosa che può tranquillamente andare pari passo e questo di andare pari passo non sempre è funzionato alla perfezione va detto non se perché a volte ti chiedevi dove era di più la testa se di qua o di là però l'Inter può secondo me c'ha l'età in tantissimi giocatori nel gruppo giocatori la maturità nel gruppo giocatori nel ciclo tecnico nell'allenatore nella dirigenza per provare a far sì che sia l'anno giusto per vincere la Champions no però voglio fare il complottista mi pare che in queste prime 5 giornate di Champions l'Inter in Champions League abbia voluto quasi indossare una specie di abito di gala capito abito di gala per abituare i poteri forti europei alla possibilità che l'Inter possa vincere la Champions cioè si è voluto attecchire ditemi se la prese si è voluto attecchire questo nuovo formato di Champions League con con occhi anima e spirito tutto su di esso volendo fin già da subito sfoderare figure magistrali maestrali tipo contro col Manchester o anche con l'Arsen ieri con l'Ipsay comunque vinto cioè c'è un attaccamento all'arrivo di queste parte in notturna a livello oserei dire anche quasi di marketing di attenzione che volendo fare il complottista mi sembra quasi come che Marotta stia cercando di dire al consesso europeo ma questo Marotta in zaghi o guardate che ci siamo anche noi occhio eh sì quindi sì si può fare l'Inter può puntare ma anche a cosinque skate mona in scarsea di più eh cioè comunque eh una la 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 Champions come ci insegna Mourinho ma anche tante altre squadre anche lo stesso Real di Ancelotti non è una coppa che vince a ottobre è una coppa che vince anche spesso tra mille traversie incidenti incidenze inerzie positive a febbraio marzo aprile ecco un'inerzia che sto vedendo complottistica è questa mi pare che Marotta e in zaghi stiano cercando di presentarsi di presentare quest'inter con l'abito di gala va bene così ma se può fare anche a cosinque skate mona in scarsea eh anzi spesso dare l'idea di essere il scemo di turno poi paga i dividendi a febbraio marzo perché ti sottovalutano tutti e tu invece piazzi piazzi fai sentire la presenza fai sentire la presenza quando conta capito ecco e venendo al Milan ma sul Milan cosa devo dire è una squadra purtroppo per il Milan che non è credibile ad alto livello dai basta il Milan quello che ci siamo detti quest'estate sul Milan cosa devo dire siamo sempre al solito punto non è una squadra credibile che soffre di invertite rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche ha una fase difensiva ridicola ha un gioco inadatto a quelli che sono i suoi migliori interpreti vedi ieri con l'altro ieri con lo Slovan Bratislava sei in vantaggio 1 a 0 devono andare 11 giocatori eh a a battere a cercare di segnare su corner quando sei in vantaggio 1 a 0 prendi un gol in contropiede che è vergognoso ok questa è una squadra che gioca al contrario di come dovrebbe giocare io mi stupisco mi 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 vergogno mi mi chiedo il perché in dirigenza non ci sia nessuno che si rende conto di questo forse perché boh con cardinale si voleva fare una squadra teoricamente di possesso di spettacolo sapete che loro hanno queste idee qui di entertainment movies oh yeah show let's make us we can great again ecco queste cose qua invece il Milan se uno pasteggiava calcio era una squadra che doveva fare l'opposto cioè essere brutta sporca coi duroni cattiva difesa a tre difesa ripartenza sfruttando i cavalli è il contrario può essere poi sul mercato lasciamo perdere due cose dovevi fare hai preso Morata che segna una volta al mese sono più le sceneggiate è più il senesage è il senesage tra lamentele espressioni tristi falli subiti Abraham lasciamo perdere Emerson Royale lasciamo perdere tre cose dovevi fare allenatore adatto al tuo gioco e il conte di turno centravanti forte funzionale terzino destro forte cannate tutte e tre il risultato è quello che stiamo vedendo l'Atalanta allora l'Atalanta io ripeto continua ma voglio anche il vostro parere sull'Atalanta perché magari sbaglio io continuo a puzzarmi di squadra cui manca sempre il 10 15 per cento per dire vince lo scudetto ok poi vediamo se a gennaio riesce a fare qualcosa da questo punto di vista perché sarà gennaio anche per l'Atalanta ma non tanto in attacco dove con Retegui Samarzic De Ketelare Zaniolo secondo me sono già a posto c'è anche troppo poi rientrerà Scamacca quanto strutturalmente in mezzo al campo vicino a Ederson o sulle fasce forse anche dietro se non bastasse recupero di Scalvini cioè a livello strutturale di struttura ha bisogno secondo me di un colpo al mestolo e uno alla botte magari vendendo uno o due giocatori prendendone altre tanti uno o due e prendersi più thug 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 capito squadra che deve essere thug thug per dire sì vince lo scudetto c'è bisogno di un po' di presenza un po' più thug tra fasce centrocampo difesa la vedo un po' così ditemi anche la vostra chiudo con Roma e Bologna va bene facciamo io ve lo dico la Roma rischia la Roma rischia la serie B io ve lo dico se perdi contro l'Atalanta rischi veramente una lotta serie B devastante perché qua la situazione veramente almeno fino a gennaio anche per te a livello di scelta di formazione è tragica avete visto anche Ranieri a Napoli ha iniziato con un 4-5-1 queste cose che vi ho detto quest'estate vi rendete conto dove bisogna arrivare per costruire un 11 che sia presentabile anche solo presentabile da schierare in campo Ranieri a Napoli ha cambiato tre schemi in una partita il dibattito su cosa verde su De Rossi su Murigno su Iuris nessuno che parla e che metta sul banco tra virgolette degli imputati sportivi come questa squadra sia stata costruita veramente con i piedi quest'estate spendendo un botto di soldi per vedere questi spettacoli qui e vedere gli allenatori costretti a fare questo tipo di spettacoli qui anche a danno di come è stata costruita la squadra dallo stesso De Rossi secondo me quest'estate era tutto tranne che contento di quella che è stata la gestione del mercato caso Dybala su tutti che entra per giocare tre minuti quindi qua c'è da arrivare assolutamente a gennaio limitando i danni e cercare di mettere delle toppe anche solo per rendere schierabile e presentabile in campo questa formazione che è piena di difetti costitutivi io se fossi il direttore sportivo di questa squadra parte che avrei già rassegnato le dimissioni ma non ci dormirei la notte a pensare come cazzo ho costruito questa squadra qua spendendo l'ira di dio poi voglio spendere due parole anche sulla retorica con la quale si è accolto Ranieri il signore del calcio signore di qua allora io ho visto la conferenza stampa di Ranieri che avrebbe gasato i tifosi allora su Angelinho a me non è parso proprio il massimo della signorilità se devo essere onesto perché a un allenatore quando il giornalista no ne ha fa l'uscita populistica capito dicendo ci può assicurare che Angelinho non lo vedremo braccetto di difesa posto che anche per me era una stupidaggine sia chiaro ma sono cose a cui ti costringe sta squadra che è stata costruita con i piedi va anche detto però lì a casa mia casa mia il signore un vero signore dice è stata una scelta dell'allenatore precedente in questi giorni di allenamento vedrò se è una cosa proseguibile oppure se cambieremo strada no colta la palla al balzo per dire no vi posso promettere vi posso assicurare che questo non lo vedrete più capito anche minchia eh poi anche i Summers quando se ne esce dicendo è come si fa ma come si fa non farlo giocare con questo tono capito paternale con questo paternale con il paternale capito col brodo di giugiole dei 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 giornalisti e come si è visto come si è fatto a non farlo giocare forse è meglio è meglio che faccia un po' su instagram è il ragazzo gol preso infatti perché poi il signore il signore vede provvede gol subito da luca cozzo cappella di angelino e hummels che non arriva e qui è poi essere anche lamentato del hummels del pallone d'oro dicendo e real madrid ha un atteggiamento trampiano è parte che real madrid sta sul cazzo anche a me fa cagare ma su trump mi sa che si va a casa è mi sa imparare da pulisic imparare da christian pulisic caro mazum mi sa che si va a casa mi sa che si va a casa poi devo anche sentire il video di silvestrin che si mette a dire anche a noi servirebbe un ranieri al messia avrei voluto vedere la reazione che avresti avuto se il milano avesse portato a casa lo zaccheroni di turno lasciamo perdere lasciamo queste queste questioni di populismo veramente quindi la la roma se perde anche con l'atalanta la serie b secondo me occhio perché di queste stagioni qua dove tutto va male dove tutto va storto dove ti ritrovi a lottare in ambiti ai quali non eri preparato mentalmente non è abituato cambi di allenatore giocatori in difficoltà così e dall'essere 9 fare 10 in senso distruttivo è il passo è più breve di quello che può sembrare chiudo con il bologna perché in champions anche lei bologna in champions è una delusione secondo me lasciando stare il campionato dove è una posizione se è ottava secondo me è la giusta posizione dove può essere dove può lottare però con questa nuova formula qua dove io credo che anche la fiorentina sebbene sia più forte come giocatori magari del bologna non di tanto però qualcosa in più ce l'ha la fiorentina in questa champions qui con la nuova formula secondo me avrebbe potuto giocarsi le sue carte ma per me anche il bologna cioè parlo a chi dice che il bologna ha una rosa scarsa beuchem casale sono scarsi lucumi è scarso posce è scarso miranda dal betis è scarso froy era un giocatore scarso ferguson è un giocatore scarso ndoia è un giocatore scarso fabia è un giocatore scarso castro è un giocatore scarso dall'inca un giocatore scarso iling è un giocatore scarso non sto neanche citando orsolini che a me non piace ma a chi piace c'è anche lui non mi pare questo questa cosa qua ripeto a me anche a me italiano sta simpatico piace credo che darà i suoi frutti sul lungo periodo lui avrebbe anche bisogno di una settimana libera per far trasmetterle su idee come fece da noi il primo anno la champions probabilmente è un ostacolo però non che si dipinga al bologna come una squadra scarsa che 4 5 6 punti in queste 7 punti in questa champions qui non avrebbe potuto farli per me il playoff poteva puntarci sicuro neanche una vittoria contro l'ill contro le squadre anche contro cui ha già avuto anche un sorteggio per me contando che è champions league e contando che mancava dal 15 18 ha avuto anche un sorteggio facilino dove una squadra che aveva un altro percorso di crescita magari alla partita casalinga contro il burris adormann poteva anche approcciarsi dicendo abbiamo costruito adesso appunto anche al colpaccio casalingo mentre io io non sposo la retorica del bologna squadra scarsa sicuramente ha perso avendo venduto zircze avendo venduto calafiori che comunque va anche visto senza motta che tipo di campionato avrebbero fatto quest'anno ma non sposo la retorica della squadra scarsa che in che inadatta cioè vedo il bologna a tanti giocatori che io mi porterei a casa cioè ripeto un beuchemann non ve lo portereste a casa uno stesso lucumino lo portereste a casa un miranda io lo porterei a casa un freuler lo porterei a casa e un ferguson lo porterei a casa andò io lo porterei a casa fabio lo porterei a casa castro lo porterei a casa dall inga vice che lo porterei a casa iling junior lo porterei a casa orsolini no perché non mi piace ma qui a dire che la squadra scarsa sta facendo il bologna per me è una squadra che può lottare per il settimo ottavo posto e in champions league ai playoff poteva puntarci bisogna dire le cose chiare secondo me come giuste come stanno va bene ditemi la vostra ciao